Un Perugia assornione, esperto dagli schemi di gioco collaudati, ha strappato i due punti allo stadio Friuli, come avevano fatto in precedenza solo Torino e Bologna. Sfortunata è stata la squadra di casa, Paolo Rossi è stata la punta di diamante dei perugini e Catellani ha faticato molto per fermarlo. Perugia a manovriero con Butti e dal fiume in avanti. Tiro, respinge Galli, che dice di no subito dopo alla corrente Nappi. Momento dell'Udinese, che cerca il successo con l'incisivo Pianca, lancio per Olivieri, conclusione alta sulla traversa. Qui è Del Neri, sulla sinistra che pesca Olivieri, tiro al volo, parata di Mancini. Il gol del Perugia, tempo scaduto da sei secondi, Frosio a Paolo Rossi, che tira, respinge Galli, accorrebagni ed è gol. Primo minuto della ripresa. Dal fiume scende sulla destra. Errore clamoroso di Catellani sul cross e Rossi non ha difficoltà a segnare. Al tredicesimo scontro tra della Martire e Fanesi, che restano a terra, il Friulano abbandonerà in barella. I sanitari gli riscontreranno la frattura della tibia sinistra. Dopo l'espulsione di Bagni, l'Udinese generosamente si butta in avanti ed è Pianca al quarantunesimo a segnare il gol della banniera, con questo bel tiro che si insacca a fil di palla. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.